La seconda gamba del sistema sanitario, quella della sanità privata accreditata, un settore che aiuta a dare risposte alla crescente domanda di prestazioni mediche della popolazione che anche in Veneto invecchia. Le strutture private del territorio si attrezzano innovando i servizi e offrendo ai pazienti tecnologia all'avanguardia. È un percorso di investimenti che passa necessariamente anche attraverso posizioni di gruppi, nel caso del centro di diagnostica per riavvoluzione tecnologica, che ha inaugurato una nuova ala con una palestra reabilitativa che dispone della piattaforma, la seconda installata in Italia, che consente la diambulazione di pazienti tetraplegici e paraplegici mediante un binario fissato al soffitto. Noi ci teniamo a collaborare all'essere un supporto fondamentale al sistema sanitario regionale. Siamo convenzionali che siamo messi a una palestra di ripetazione neuropsicologica, quindi sia neuromotorica che psicologica, dove ci attiviamo dando attrezzature all'avanguardia per dare risposte a... Non voglio più chiamarli pazienti perché non sono manco più tanto pazienti, sono degli amici, degli utenti, quello che vogliamo, ma non sono più pazienti e quindi vogliamo dare il massimo come in un ambiente bello, perché anche quello è importante, un ambiente che sia decoroso, bello, per dare... perché anche, diciamo, fare riavizzazione o fare un'attività in ambito di strutture gradevoli è una cosa importantissima, a mio avviso, oltre ad avere la professionalità di medici, fisioterapisti, è un'organizzazione che deve essere al topo. Una sala operatoria all'avanguardia, perché? Beh, questa è una sala operatoria all'avanguardia perché è dotata di tecnologia di ultimissima generazione, è dotata di un touch panel che indica sul monitor tutti i parametri per garantire la qualità dell'aria ai fini del contenimento delle infezioni. Quindi abbiamo un sistema che ci indica l'intensità dell'illuminazione, la temperatura, l'umidità, la qualità dell'aria e un sistema d'allarme che segnala lo scostamento di questi parametri. Sappiamo che le liste d'attesa rappresentano un problema sociale importante che il sistema sanitario non riesce, diciamo, a contenere e pertanto necessita di un supporto da parte del privato. Noi non lo vogliamo dare mantenendo una qualità elevatissima delle nostre prestazioni. qualcosa che vogliamo continuare. Se poi ci permetto di lavorare di più con il pubblico, non siamo qui. Questa è la realtà.